Allora sarà più facile accedere al super bonus 110%. In arrivo il modulo unificato, valido in tutta Italia, per cominciare i lavori di ristrutturazione energetica. Giampiero Scarpati. Più semplice, più veloce e soprattutto con meno burocrazia. Cambia pelle il super bonus edilizio, il vantaggio fiscale del 110% per i lavori di ristrutturazione energetica. D'ora in avanti per avviarli basterà solo la CILA, la comunicazione di inizio lavori. Anche in caso di interventi strutturali non ci sarà più bisogno di ulteriori certificazioni di irregolarità dell'immobile. E a rendere tutto più semplice arriva un modello standard, valido su tutto il territorio nazionale. Questo dà la possibilità ai cittadini di efficientare il proprio condominio senza aver la paura di dover restituire all'Agenzia delle Entrate il generoso contributo che in questo momento viene dato. Ma dando poi la possibilità ai singoli eventualmente di mettere a posto piccole difformità che si fossero generate nel tempo. L'obiettivo è quello di rendere il super bonus edilizio più appetibile anche per i condomini che finora hanno rappresentato solo il 10% delle agevolazioni richieste. Per le cosiddette opere di edilizia libera come l'installazione di caldaio o finestre basterà la descrizione dell'intervento. Se ci sono variazioni in corso d'opera vanno comunicate a fine lavori. Le altre novità, il cappotto termico potrà essere fatto anche in deroga alle distanze minimi tra gli edifici mentre i pannelli fotovoltaici potranno essere installati anche nelle zone A dei centri storici.